Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui in un video serale abbastanza speciale Come vedete ragazzi sono su Player Battleground, più o meno si dice così, Player New Battleground Come volete voi, comunque ragazzi vi invito in primis a lasciare un bel like per questi video serali E adesso si va a giocare insieme Premessa ragazzi, come voi ben sapete Battleground è un gioco molto particolare, in che senso? E' non molto ben ottimizzato, anzi diciamo quasi per niente Infatti possono esserci qualche mini frizz eccetera Nonostante il mio PC lo rega tranquillamente sui 150-200 fps Purtroppo a causa della poca ottimizzazione può avere dei cali improvvisi a causa dei frizz Quindi ragazzi, è una cosa che dovrete aspettarvi Adesso vediamo un po' se carica la partita magari in tempo senza che dobbiamo morire E ovviamente ragazzi sono anche scarso, perché ci gioco quasi per niente Essendo che gioco da solo, siccome gli altri non ce l'hanno Può darsi che faccia abbastanza pena E no signorina la, scu, vabbè non ho violenza sulle donne Pichiamo a questo Ciao strozzo, strozzo Io ti picchio perché sono bello Ciao, io ti picchio perché sono bello Infatti vedete ragazzi, da cosa si capisce la poca ottimizzazione? Già dal fatto che per caricare sta piccola parte di mappa ci mette un bel po' E non è in caso del PC ragazzi, ma è una cosa di cui si lamentano un po' tutti A parte i youtubers un po' tutti Però vedete in mezzo al fuoco, voi non vedete in questo momento ci sono dei piccoli cali Questo per esempio è stato un mini frizz, ma raga Accontentiamoci, non fa niente per stavolta Comunque con la potenza dei like che lasciate potremmo andare tranquilli 8 secondi per startare, attenzione 8 secondi per startare Si è bloccato raga il matchmaking, che è successo? Ah ok, ripreso Ok raga, siamo qui sull'aereo in un modo incredibile Pronti a buttarci al piano da sotto E ad arrivare da qualche parte che magari ci può Non dico far vincere, ma almeno giocare bene E vorrei andare ragazzi in un luogo dove ci sono anche altre persone Cioè sono persone che strillano Raga, se continuano a strillare vi taglio questa parte Sicuro Ok raga, vi ho tagliato quella piccola parte perché purtroppo i bimimminchia strillavano Ma perché li chiamo bimimminchia raga? Perché loro usano il microfono solo per strillare Ovviamente il paregatutto non lo attiviamo subito Aspettiamo di arrivare giù E poi lo attiveremo Raga, ovviamente non durerò tanto perché sono abbastanza scarso Il mio record personale è arrivare quarto Però capite che arrivare quarto è un po' difficile Ok, siamo quasi arrivati Il paregatutto è attivato Io spero che nessuno sia caduto in questa zona Guardiamoci Ah, uno è caduto proprio qui Ma non te li puoi andare verso le altre case? Ma toh raga, guardate la gente che è atterrata qui Guardate la gente Io e ragazzi devo andare verso di là È l'unico modo Arrivare in quell'altro gruppo di case Se no mi fanno fuori all'istante tipo Anche se li ha atterrato ancora qualcun altro Raga, purtroppo è un gioco così Il primo che arriva vince È un po' come il detto Chi va a Roma perde la poltrona Ma questo è in anticipo Quindi cerchiamo di fare comunque una bella giocata raga Perché vi ripeto Ci possono stare mini freeze, mini tutto Ovviamente ragazzi Reccando si freeze ancora di più Però vedete Registrando ad urta A urta Ultra in questo momento Vedrete sicuramente il video a 60 fps Perché me lo sta registrando a 100 di base Poi uno basso io a 60 Quindi direi proprio che vanno benissimo Allora raga Forse qualcuno Nessuno è arrivato in questa casa Che abbiamo qui davanti Quindi dobbiamo correre e sbrigarci Perché la gente raga Quando spavano avvicinare altre persone La prima cosa che fa Sapete qual è? Andiamo a prendere questo in caso di merce No, il cappello Vuole prendere l'altra cosa Sapete che fa appena spavano? Ebbene sì Prende la prima arma La pistola Qualche sia E comincia a sparare Come è giusto che sia raga Perché è una cosa fatta bene Almeno puoi cominciarti già a fare le prime kill Ok, pistola Perfetto Potrei fare la stessa cosa Che ho detto prima Ma evitiamo per il momento raga Perché abbiamo poche munizioni Poche armi E vorrei evitare di fare le cazzute Ok, ci sono i fucili per il pompa Quindi Prima che ci sente qualcuno Ah, ma Non è per il pompa che ho io Che palle Carichiamo un attimo quest'arma Sento passi Raga, purtroppo Questo è un gioco di passi Io spero soprattutto Che l'audio si senta bene In tal caso raga Se non si sente bene Perdonatemi È la prima volta che recco sto gioco E quindi Sto facendo diverse prove Partendo dalla Qualità grafica Con I vari fps Eccetera Ma qui ho sentito dei passi Raga, secondo me C'è qualcuno nella casa Ok raga Probabilmente avete visto Una grande interruzione Anche se voi Vabbè, vedete un taglio Perché ho dovuto fermare Perché si sta farebendo Lo spazio sull'SSD Perché mando le registrazioni Sull'SSD Cosa che dovrei assolutamente cambiare Raga, c'è un'auto Raga, c'è un'auto Però non so se è funzionante No, che inculatura Avevo visto una persona scappare In questa parte raga E ho paura che mi becchi da dietro Sinceramente non so raga Ho visto un tipo Tipo scappare qui Tipo tipo Giochi di parole come sempre Però non c'è più No ma si è ristretta la zona raga Per fortuna siamo dentro Però dobbiamo andare in quella zona Per stare ancora più sicuri Raga, ovviamente Molti di voi Magari preferiscono Non so Ad esempio I fail Le parti più divertenti Invece di un gameplay Così lungo E che può essere tranquillamente Senza motivo Anche un po' moscio Ci sta Perché comunque È abbastanza lento E vabbè Però raga Fatemi sapere voi nei commenti Se vuoi decidere Se è lento Se vi piace comunque Se va bene così Se non va bene Se trovo un mezzo Sarebbe meglio Ti prego Un'auto Un'auto Una bicicletta Lì c'è un trattore Ma non si può portare E andiamo avanti Si raga Molti diranno Luke Ma c'è un Pumba Due Pumba Non so perché C'è due Pumba diversi Però sono lo stesso modello Vabbè Hai due Pumba Una pistola Ma che Dov'hai Luke Dai c'è poca roba Devi prendere Raga Piano piano Prendiamo tutto Quello che ci serve Tanto la zona protetta È invasa da noi No invasa no Perché raga Se provo a dirlo Alta voce Mi picchiano Tipo tanto Quindi Ci siamo nella zona protetta Si sentono esplosioni Oh Mi è partito il colpo De Pumba Ma voi non lo calcolate Ci sono esplosioni incredibili Perché vicino qui Avremo la mappa E c'è la zona piena di esplosivi Perché stanno Burbantanti con l'aerea Ok raga Vediamo sta casetta Che c'è sta Anche se mi sembrano Tre case abbandonate Però già trovare Un motorino Qualcosa del genere Raga Perché non è come H1Z1 Puoi trovare tanti Uh attenzione Tutta Puoi trovare tanti tipi Di veicoli E questa è una cosa Che è davvero Wow Super bellissima Allora raga Abbiamo trovato un altro mitra Che scambierei tranquillamente Con uno dei Pumba Siccome c'erano due Raga Dello stesso modello Poi Prendiamo questo Prendiamo i colpi I proiettili E invece della pistolina Stile Far West Prendiamo una bella Desert Eagle Almeno così mi sembra Che sia raga Credo che sia Desert Eagle Ok Allora direi di andare Verso quella zona lì Che sicuramente ci sarà qualcuno Perché ragazzi Su questi giochi Molti diranno Look Secondo me è meglio Camberare Farsi i fatti sui Che si è visto No raga Secondo me è meglio Andarsi a cercare i nemici Perché mi piace molto l'azione E non il gioco statico Fermo Morto Lì sul momento Allora raga Sinceramente Ci sono tante esposioni In lontananza Però non vedo Player Nelle vicinanze E questi non mi piace Come vi ho detto già raga Vorrei tanto scontrarmi Con qualcuno Perché è una cosa Molto emozionante Poi muoio Gli butto tante bestemmie addosso Però quelli sono dettagli Ok Allora raga Vediamo un po' Non c'è nessuno In una cittadina È possibile che non c'è nessuno Un po' tipo Mi ammazzano Si chiama Pochi No aspettate Aspetta Non Pochi Si chiama diversamente Non Pochi Pochi in chi Va bene Sarà qualche città russa Abbandonata Strano Va bene Allora raga Devo trovare qualche veicolo Raga ho provato a usare un po' il volume Perché Oddio Forse era un po' basso Ma adesso forse è troppo alto Vabbè Me lo direte voi nei commenti Assolutamente E vediamo un po' Sta cittadina Che se fa qua dentro Che se fa Non c'è nessuno Mi sono fatto anche sentire Nessuno si fa vedere Abbiamo maggior ragione In effetti Vediamo un po' Che c'è sta dentro le case Che sono state già visitate Credo di sì Ci sono le porte chiuse Ragazzi Ma a volte è una tattica Cambiamoci gli stivalini Che tanto Noi che c'avevamo prima Ma gli stessi Mamma mia Vabbia 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 Veicoli non ce ne sono È una piccola picca Più che piccola È una grande picca Attenzione Ho parlato Eccola lì Dovrebbe essere la buggy Tipo quella di Trevor Adesso andiamo a vedere Va bene Camminare così per la strada Non è mai conveniente Ragazzi Ma noi siamo trasgressivi E lo facciamo senza problemi Oh mio dio Ragazzi Ma c'è gente Ma no Non era solo quello Il problema Ragazzi Ce ne avevo tipo Due o tre dietro Una cosa incredibile No ragazzi Ce l'hanno messo in quel posto In modo brutale Ragazzi ovviamente Come prima partita Spero che vi piaccia Come voi ben sapete Quando porto un gioco nuovo Vorrei vedere prima il resoconto Quindi mi fate sapere Com'è andato Il video Se vi piace come serie Serale ovviamente Me lo fate sapere Io vi invito a lasciare un bel like Qui ovviamente c'è tutta la sigla Tutti i connecting Ok Eccoci qui Con il nostro personaggio Bruttissimo Sottolineo Comunque Mi raccomando Se il video vi è piaciuto So che è durato ben poco Però se vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate il video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E Ciao a tutti ragazzi